19 morti e 17 feriti per uno smartphone sequestrato da un insegnante. Un bilancio terribile, senza senso. La causa dell'incendio che una studentessa ha piccato nel dormitorio della scuola lascia senza fiato l'intero paese in Guyana, colpito dall'immensa tragedia. La ragazza avrebbe scatenato l'inferno perché le era stato preso lo smartphone. Questa è la motivazione comunicata ufficialmente tra le ipotesi del luogo. Tre i giorni di lutto nazionale.